Atenzione prego, mi invioliamo ai signori e aiutori, aiutori e aiutatori, che è stato spostato con un'attacchia di grazia, ciascchia di questo interno. Più semplice, è già portato al punto veterinario 511, grazie. Aspettative, we inform all investigators that it has been lost a Chinese-crested dog. Whoever will find it, it can be expected to bring him up at the left side in Apollo 11. Thank you. Thank you. Attenzione, echo! Invogniamo signori e senori e visitatori, che è stato ritrovato una cane tirata post-that-terrile con un pedo grisci. Prezzo l'appunto veterinario dell'Espagnolo 11. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.